La strada provinciale 13 chiusa in direzione Front questa mattina martedì 30 gennaio dalle 9 per un mezzo pesante che intorno alle 8 è uscito fuori strada nelle curve sulla strada che collega Front a San Francesco al Campo. Le ruote posteriori della motrice sono uscite dalla carreggiata, in leso conducente del mezzo pesante che al momento dell'incidente era vuoto. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di San Maurizio Canavese e Torino e gli agenti di polizia locale di Front. Poco prima dell'inizio delle operazioni di recupero la strada è stata completamente chiusa e riaperta al traffico intorno alle 10.30. Il mezzo è stato recuperato con l'ausilio dell'autogru dei vigili del fuoco. Grazie per la visione!